Cari amici ben ritrovati, ringraziamo i nostri sostenitori e ci avviamo all'epilogo di questo nostro entusiasmante discursus all'interno della Costituzione italiana. Nel farlo non possiamo esimerci dal parlare innanzitutto di quell'importantissimo bene costituzionale rappresentato dalla libertà di pensiero, così come scolpito dall'articolo 21 della Costituzione e che può essere considerato al giusto titolo come la vera e propria pietra angolare del nostro impianto costituzionale. Senza di esso, infatti, nulla sarebbe più come prima, in quanto la possibilità per ciascuno di noi di esprimere liberamente le proprie opinioni e i propri convincimenti, costituisce il motore propulsivo del nostro benessere collettivo e del nostro poterci considerare, sotto molteplici aspetti, una società progredita. Del resto, in un'ottica interdisciplinare, quanto poc'anzi asserito, lungi dall'essere una mera opinione di chi vi parla, trova un puntuale riscontro nei manuali di storia e nelle cartine geopolitiche odierne. In tal senso, vi basterà dare un rapido sguardo a quanto accadde o è accaduto su scala globale per rendervi conto di come, in quei paesi in cui la libertà di pensiero è indebitamente compromesso e dove quindi sono i governati ad avere paura dei governanti e non viceversa, si finisca inevitabilmente, presto o tardi, per scivolare in una morta gora culturale prima ed economica poi. Questa necessaria prolusione d'ordine concettuale alla tematica odierna potrà del resto forse tornarvi utile, in un qualche modo, anche per capire, almeno in parte, perché in questi giorni siano sorte così tante e così furiose polemiche su quelli che sono stati definiti come reati di opinione. Polemiche, la cui fondatezza o meno è rimessa al prudenziale discernimento di ciascun ascoltatore, non essendo nostro compito schierarci dall'una o dall'altra parte. L'impressione, comunque, a tratti è che, fraintendendo il mandato che è chiamato ad espletare chi siede nel Parlamento, si abbia la tentazione di erigersi al nostro indebito tutore, anziché al megafono della sovranità popolare, dimenticando, quindi, il vecchio e saggio brocardo latino, secondo cui ubi societas ibi ius. Detto in altri termini, le fughe in avanti rispetto al sentire sociale contingente, seppur dettate dalle migliori intenzioni, difficilmente sortiranno gli effetti sperati. Orbene, provvedo quindi a darvi lettura testuale dell'articolo 21 della nostra Costituzione, per poi andarle ad analizzare assieme le parti più salienti. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può precedere a sequestro soltanto per atto motivato dall'autorità giudiziaria nel caso di delitti per i quali la legge sulla stampa, espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per le indicazioni dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre 24 ore, farne denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non la convalida nelle 24 ore successive, il sequestro si intende revocato e privo di ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contra il buon costume. Dice infine l'ultimo campo verso, come la legge, stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e reprimere le violazioni. Tanto premesso, se vi si chiedesse che cosa si intende agli effetti dell'articolo 21 della Costituzione, manifestazione del proprio pensiero, voi che cosa rispondereste? Innanzitutto, sembra sostenibile, da un lato, che la garanzia costituzionale non si estenda alle manifestazioni che non rispondono alle interiori persuasioni dei vari titolari del diritto, sicché, per esempio, si giustifica l'incriminazione delle notizie false atte a turbare l'ordine pubblico. Recita in tal senso l'articolo 656 del Codice Penale, rubricato col titolo pubblicazione o diffusione di notizie false esagerate o tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico. Ebbene, il sul menzionato articolo recita quanto segue. Chiunque pubblica o diffonde notizie false esagerate o tendenziose per le quali possa essere turbato l'ordine pubblico è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a Euro 300. Dall'altro lato, la garanzia costituzionale non copre la diffusione di pensieri giuridicamente appartenenti ad un terzo. Si pensi ad esempio, in tal senso, al diritto di autore e al conseguente divieto di pregiudicarne l'utilizzazione economica. Il riferimento costituzionale al proprio pensiero non implica, peraltro, che si venga a tutelare la solo libertà di opinione senza dotare di adeguata copertura normativa anche la narrazione dei fatti o dei casi della vita, ovvero, detto in altri termini, la cosiddetta libertà di cronaca. In tal senso, infatti, la prevalente dottrina e la giurisprudenza della Corte Costituzionale non hanno esitato nel concludere che la libera manifestazione del pensiero corrisponde, indifferentemente, alla libertà di dare e divulgare notizie, opinioni e commenti. Ciò viene comprovato, del resto, dall'estrema difficoltà, tanto pratica quanto logica, nello scindere fatti e giudizi, già che tra gli uni e gli altri sussiste un sicuro rapporto di continuità. È inevitabile, allora, ad esuberne, che l'articolo 21 della Costituzione stabilisca una garanzia di amplissimo spettro, comprensiva sia delle manifestazioni più neutre, sul tipo della cronaca, sia della propaganda nei suoi più vari aspetti. Sotto quest'ultimo profilo è significativa la sentenza 6 luglio del 1966 numero 87, con cui la Corte ha annullato l'articolo 272 del Codice Penale nella parte riguardante la propaganda antinazionale. Ciò posto, pur presentando una notevole ampiezza, la libertà di manifestazione del pensiero incontra specifici limiti, fissati non solo nello stesso articolo 21, ma resumibili anche da altre norme costituzionali, a tutela di determinati diritti che possono venire in conflitto con le concrete modalità di esercizio della stessa. Tali sono, quindi, i limiti derivanti dalla riservatezza e dalla onorabilità della persona, in base agli articoli 2 e 3 della Costituzione. Infatti, il diritto di ciascuno a manifestare il proprio pensiero non dovrà essere esercitato in modo tale da ledere la dignità, l'onore e la privacy altrui. Il rispetto della persona, a tal proposito, è tutelato da quelle norme penali che puniscono i reati di diffamazione e oltraggio e dalle norme civili che prevedono misure preventive e sanzionatorie di salvaguardia della personalità. Ci sono poi limiti derivanti dal buon costume. A tal proposito, secondo la dottrina prevalente, debbono considerarsi vietate a norma dell'articolo 21 ultimo comma della Costituzione tutte quelle manifestazioni di pensiero che, secondo il sentimento della collettività, offendono il comune senso del pudore e la pubblica decenza. Abbiamo poi tutto un altro macrocorpo di limiti derivanti dal segreto giudiziario. In tal senso, per garantire il buon andamento dell'amministrazione della giustizia e per proteggere la reputazione degli imputati, è vietata, o forse alla luce di quanto accade purtroppo spesso, è più opportuno dire che dovrebbe essere vietata la pubblicazione di atti destinati a rimanere segreti. Vi è poi limite derivanti dal segreto di Stato. A tal proposito, in base all'articolo 12 della legge 12 ottobre 1977 numero 801, sono coperti dal segreto di Stato atti, documenti, notizie e attività la cui divulgazione potrebbe arrecare danno alla sicurezza dello Stato democratico e afferenti essenzialmente interessi diplomatici, militari o di sicurezza interna. Da ultimo, sicuro limite alla libertà di pensiero e di comunicazione è infine costituito dalla fattispecie dell'apologia di reato. A tal proposito, come ha affermato la sentenza numero 65 del 1970 della Corte Costituzionale, l'apologia di reato non costituisce infatti alcuna manifestazione di pensiero, ma rappresenta solo un comportamento idoneo a provocare delitti e pertanto non è ammissibile nel nostro ordinamento. Bene, cari ascoltatori, siamo giunti ai titoli di coda della puntata odierna. Prima di lasciarvi, reputo di sicuro interesse farvi riflettere, nei limiti delle mie possibilità, su alcune questioni di fondo. Molti di voi saranno sicuramente convinti come gran parte dei nostri problemi derivino da una Costituzione non più al passo con i tempi, che lungi del fungere come volano al progresso socio-culturale ed economico del Paese, rappresenti invece a tratti un'indebita zavorra. Tuttavia, possiamo affermare con assoluta certezza come non si possa trovare una giusta soluzione ad un problema presentato in maniera erronea. La nostra Costituzione, infatti, come abbiamo già avuto modo di vedere nelle puntate precedenti, è assolutamente sovrabbondante di principi, quanto scarla di regole, il che le dovrebbe permettere, come logica conseguenza dell'indeterminatezza lessicale dei primi, di assestarsi man mano e senza shock di alcun tipo, al mutato sentire sociale sulle più disparate questioni. La colpa è, semmai, della politica degli ultimi trent'anni, o anche più, che non funziona o non funziona come dovrebbe, bloccando in tal modo i circuiti decisionali. Per utilizzare una metafora sportiva, è come se, in sede di gara di Formula 1, avendo ai box di partenza una Ferrari e non essendo riuscita la stessa a piazzarsi in pole position, si decidesse di dare tutta la colpa alla parte meccanica dell'autovettura, anziché capire se e in che misura vi abbia contribuito anche l'imbranataggine del pilota di turno. In tal senso, il fatto che la nostra Costituzione abbia subito se tante modifiche negli ultimi anni non è certo un buon segnale. A tratti può sembrare come una vera e propria mancanza di rispetto nei confronti di quello che fu un miracolo di buonsenso partorito dai nostri padri costituenti. Ciò anche in considerazione di come si sia trattato per lo più di riforme assai malformurate. Scrivere infatti le riforme costituzionali, con la stessa sciatteria semantica con cui si scriverebbero delle circolari, finisce inevitabilmente con lo svalutarne la sua funzione. Termino a tal proposito, uscendo dal seminato del nostro discorso per fare una piccola chiosa polemica. In un contesto come quello contingente, caratterizzato dallo sfrenato consumismo, non solo di beni suscettibili di utilizzazione economica, ma anche della nostra bella lingua italiana, col fiorire quindi di inutili neologismi, sincretismi ed indebite abbreviazioni derivanti dall'uso di social network e piattaforme di messaggistica estentanea, è bene ricordare come non vi sia un modo più funzionale e un modo meno funzionale di esprimersi, ma solo e sempre una forma sintanticamente corretta e una scorretta. È una consapevolezza questa che faremo bene a non perdere mai di vista. Dunque, come avrebbe detto Augusto, acta est fabula. Ringrazio tutti coloro che sono all'ascolto, nonché i nostri sostenitori e vi saluto. Ciao ciao! Grazie a tutti!